bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo tantissime news per quello che riguarda la giornata di fortnite e il futuro che sta per arrivare nei prossimi giorni una settimana importante quella che ci aspetta dove molto probabilmente arriverà la patch 14.20 sembrerebbe essere confermata per il 23 settembre ma nel video di oggi parleremo di galactus parleremo di un nuovo progetto che tony stark ha in mente e ovviamente di tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che è un po una rettifica di un post che vi avevo pubblicato ieri su instagram e del quale si è parlato in questi ultimi giorni in queste ultime ore parlo ovviamente del midas flopper il pesce che sappiamo essere presente in game ma che nessuno ancora al momento è riuscito a pescare sappiamo che c'è una percentuale lo 0,0004 per cento di poterlo pescare quindi molto meno rispetto al vendetta flopper che invece molti di voi sono riusciti a prendere per completare la propria scheda di pesca questi dati che sono presenti nell'immagine in realtà non sembrerebbero veritieri sappiamo che sarà un pesce leggendario ma non dovrebbe fare 40 di danno al giocatore bensì una volta consumato trasformerà tutto l'inventario del giocatore in leggendario le modifiche che vengono fatte ragazzi sono quelle che dicono che forse il pesce di mida il midas flopper è presente solo in arena questo lo sappiamo dopo l'ultimo post ufficiale su twitter di epic games che dice di aver fatto delle modifiche per il competitive quindi hanno tolto le boogie bomb hanno tolto il porta fort e hanno diminuito la possibilità di sponare i crash pad quindi i paracadute questo perché in arena stava diventando stava diventando un pochettino ingestibile la cosa da lì sembrerebbe che invece sia presente solo in questa modalità il midas flopper way se qualcuno lo trova mi mandi subito una foto su instagram e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché buone notizie ve ne avevo già parlato ma ve lo voglio ricordare sembra che la patch 14.20 sia giunta alla fine degli status server e andrà negli stage server quindi quelli pronti praticamente per il rilascio mondiale abbiamo una data come vi anticipavo rumors dicono il 23 settembre ci auguriamo ovviamente che ci abbiano preso e con la nuova pace ovviamente tutti si aspettano anche finalmente l'arrivo o comunque qualche modifica a galactus in realtà se guardate bene il cielo vedete che la stella luminosa è molto più grande rispetto a due settimane fa e per stella luminosa intendo proprio questa immagine quindi galactus che sta arrivando per cercare di conquistare ovviamente la mappa arrivano però delle foto davvero meravigliose tra cui questa che volevo farvi vedere che a parere mio è un concept ovviamente ma che dovrebbe ritrarre fedelmente quella che è la skin di galactus appunto che dovrebbe arrivare nel battle royale insieme a tutto il mini evento che dovrebbe appunto apparire e nel quale parteciperà ovviamente lui è thor con i supereroi quindi ragazzi meravigliosa questa skin speriamo non sia troppo vistosa o comunque che abbia la possibilità di non utilizzare il bagliore come stiamo vedendo devo dire davvero davvero imponente andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono purtroppo delle cose che stanno succedendo dico purtroppo ma in realtà noi non veniamo toccati da questa cosa ma mai dire mai tik tok chiude i battenti negli stati uniti ragazzi se ne è parlato nelle ultime due settimane e il verdetto è ufficiale decretata la chiusura definitiva di tik tok appunto negli usa questo vuol dire ovviamente molta meno concorrenza per quanto riguarda i tik tok mondiali ma in realtà il signor donato che noi tutti conosciamo benissimo un attimo ha fatto anche un'altra cosa di cui dovevo parlarvi nel video di ieri ma non ho avuto tempo il dona ha chiesto esplicitamente a tencent di rimandare tutti i dati dei giocatori di fortnite perché ha paura che ci siano delle violazioni della privacy tencent per chi non lo sapesse è la compagnia che gestisce fortnite in cina e sebbene lavori parallelamente con la compagnia europea e quella americana che gestiscono forte loro fanno un po quello che gli pare bene ve lo dico ogni tanto quando ci capitano degli degli annunci importanti cioè spoilerano le cose anticipano gli eventi modificano le cose perché loro lavorano proprio a fatti loro e non sono in realtà direttamente collegate con le altre due sedi mondiali appunto di epi games quindi anche qui ragazzi staremo a vedere e prima di salutarvi volevo parlarvi i ragazzi di un argomento davvero interessantissimo perché un ragazzo ha trovato questo disegno in game e come vedete ragazzi al centro del disegno c'è il pass il autobus il battle bus l'autobus della battaglia ragazzi solo che ci sono tantissimi scarabocchi intorno ora ragazzi vi faccio vedere in maniera un pochettino più dettagliata questa immagine ecco ora possiamo guardarla molto meglio si tratta ovviamente di un progetto che tony stark ironman sta cercando di mettere in atto insomma abbiamo capito che la mano di tony stark è davvero molto presente in questa season soprattutto in queste prime quattro settimane addirittura abbiamo visto le quattro nuove mini location più l'enorme nuova location delle stark industries ma qualcuno si è chiesto da dove arrivano queste location che sono apparse con i rift in mappa non lo sa nessuno e quello che viene tradotto guardando questo autobus della battaglia è il discorso che potrebbe esserci un level up quindi l'autobus sembrerebbe che si stia preparando per attraversare i buchi neri o le cosiddette fenditure per i mondi paralleli che sappiamo essere presenti nella storia in principale di fortnite più comunemente conosciuti come i nexus insomma ragazzi anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao